Buongiorno a tutti, buona mercoledì mattina, ben ritrovati, il nostro primo appuntamento con l'informazione, con la lettura dei giornali, con le notizie della nostra rassegna stampa ma anche con le immagini che arrivano dalla nostra regione che ci allietano come sempre all'inizio di questo nostro appuntamento qui siamo sul Lussari con le immagini che ci arrivano proprio dalla vetta del monte Lussari, a Tarvisio non c'è più la neve, ci sono però dei bellissimi colori verdi e il cielo con il sole che è appena sorto andiamo a vedere anche a Piancavallo, sempre sulle nostre montagne, anche qui una bella giornata con un po' di foschia che si intravede in Pianura, poi ancora gli scatti del webcam del nostro territorio qui siamo a Martignacco dove c'è un cielo illuminato però con anche qualche nuvola che potrebbe essere in giornata andiamo a vedere anche il lungomare con Grado, con invece qua una bella giornata chiara senza foschia e senza nubi ecco la spiaggia e poi invece a Trieste con il golfo rischiarato dalla luce del sole anche qui la città illuminata dai raggi di questa prima giornata e appunto un bel tempo, un cielo sereno nel capoluogo regionale andiamo però a vedere come sarà la giornata di quest'oggi anche perché ieri era molto caldo, era una bella giornata ma in serata ci sono stati dei temporali ci sono stati degli annuvolamenti, vedremo come sarà quest'oggi Un saluto e ben ritrovati agli amici di Udinese TV da Vanessa Minotti di Trebi Meteo l'alta pressione nella giornata di mercoledì continuerà a coinvolgere il Friuli Venezia Giulia ma una perturbazione che transita oltre Alpe apporterà dei fenomeni principalmente sui settori montuosi temperature massime in live flessione ma in un contesto climatico ancora caldo ed estivo in dettaglio tra Udine e Pordenone giornata in prevalenza soleggiata tra pomeriggio e sera segnalo la formazione di temporali di calore principalmente sui settori montuosi che potranno occasionalmente in serata sconfinare anche sulle zone di pianura clima già piacevole in mattinata con minimi intorno ai 20-22 gradi valori poi in ripresa nel corso del giorno seppur come vi dicevo in lieve flessione rispetto alle giornate precedenti diamo uno sguardo anche alla situazione prevista tra Gorizia e Trieste e qui la situazione sarà stabile e asciutta con ampi spazi assolati transiteranno degli annuvolamenti temperature massime intorno ai 30 gradi ventilazione debole a tratti moderata con mare da calmo a poco mosso con questo è tutto ma per sapere nel dettaglio cosa accadrà da voi scaricate l'app di Trevi Meteo Allora qualche temporale quest'oggi in pianura mentre invece sulla costa splenderà per tutto il giorno il sole vedremo se questa perturbazione effettivamente arriverà già nelle prime ore del giorno adesso invece ci spostiamo sulle prime pagine di quest'oggi andiamo a vedere quali sono le notizie più importanti in apertura sicuramente in primo piano la faida interna al Movimento 5 Stelle con Grillo che ha scaricato Giuseppe Conte dopo un suo messaggio di apertura il giorno precedente ieri invece il fondatore del Movimento è stato molto duro nei confronti dell'ex premier non ha visione politica e neanche capacità manageriali e questo a fondo è in prima pagina su tutti i giornali si continua però anche a parlare della variante delta e dell'economia di questa estate post terza ondata andiamo a vedere subito il Corriere della Sera Grillo rompe con Conte questa è l'apertura di quest'oggi non ha visione il Movimento non ha uno statuto seicentesco ha detto Grillo e l'ex premier a questo punto chiarisce ha fatto la sua scelta ai rilievi dell'avvocato il garante ha risposto con grande durezza e riesuma Russo per il voto sui dirigenti e infatti ha proposto di nuovo un voto da parte degli iscritti al Movimento 5 Stelle per appunto votare il programma e i dirigenti del Movimento il ritorno delle anomalie scrive Massimo Franco il declino del Movimento quei due partiti dentro i 5 Stelle invece l'approfondimento per capire chi sta con chi resta l'incognita su chi accoglierà la richiesta del garante per candidarsi a guidare il Movimento Di Maio e Fico mediano tra le due anime Patuarelli guida i contiani e annuncia mai i miei dati su Russo anche Taverna e Liccheri sono con l'ex premier e poi vediamo anche in taglio centrale negli Orliastra 8 super longevi su 1741 abitanti è un comune sardo il paese dei centenari il segreto aria e cibo poi invece gli approfondimenti sul cashback che è stato abolito è una battaglia politica ma Draghi va avanti trovato l'accordo anche sui licenziamenti anche se ieri la CGL regionale ha detto ci sono 5.000 posti a rischio intervista anche con Renato Brunetta un patto sociale per crescita e lavoro vediamo in taglio laterale il caso dei tifosi inglesi a Roma la quarantena è impossibile la partita di sabato la variante delta si abbatte sugli europei l'Inghilterra che ieri ha sconfitto la Germania 2 a 0 sabato giocherà a Roma contro la Spagna ma non ci saranno tifosi inglesi che arriva da Londra infatti deve restare in quarantena e poi arrivano anche i primi via libera per vaccinarsi in vacanza in taglio alto la cronaca con il terribile caso della sedicenne uccisa nel bolognese ho ammazzato Chiara me l'ha ordinato il diavolo questo sarebbe il virgolettato del reo confesso poi ancora il paese dei centelari abbiamo visto invece in taglio più basso la foto è di Larissa Iapichino la giovanissima figlia di Fiona May che si era guadagnata con un salto prodigioso uguale a quello della mamma le Olimpiadi di Tokyo si è infortunata ai campionati nazionali di Rovereto e non potrà partecipare alla sua prima Olimpiade l'editoriale di Ernesto Galli della Loggia a destra è populismo la lezione che offre la Francia questa è la prima del Corriere adesso spostiamoci sulla Repubblica che è più diretta Grillo butta fuori Conte il fondatore attacca è un incapace senza visione politica recupera Casaleggio votiamo su Russo e il direttivo 5 Stelle i parlamentari sono in rivolta così ci distrugge l'ex premier ora pensa a un partito due ministri appunto fra cui Patuanelli sarebbero pronti a seguirlo intesa governo sindacati cassa integrazione prima di licenziare per il lavoro una strada c'è dicono Tito Boeri e Roberto Perotti nel loro pezzo invece analizza Cuzzocrea, analizza la crisi dei 5 Stelle poi invece in centropagina l'esercito Etiorp si ritira dal capoluogo della regione Contesa la festa di Macallè liberata dai ribelli e tigrini quindi andiamo in Africa e poi invece il profeta dell'umiliazione il personaggio si parla ancora dello scontro fra Conte e Grillo dal Marasma emerge Di Maio lo psicodramma un po' grottesco continua con Di Maio che cerca di fare da pacere adottando regole di buonsenso poi le tre lenti con cui Biden guarda la Cina e le parole che dominano il tempo il pezzo di Eugenio Scalfari qui invece in taglio più basso a Bologna la confessione dell'omicida a 16enne ho preparato la morte di Chiara mi ha spinto un demone uccisa a 16 anni e adesso qualcuno dirà che è colpa della pandemia che i nostri adolescenti sono fragili e che buttano fuori poi tutto il disagio che si sono portati dentro approfondimenti e tematiche difficili da affrontare quest'oggi per questo omicidio davvero incomprensibile finalmente l'Inghilterra, Germania addio passa anche l'Ucraina questi sono i verdetti degli europei delle partite degli europei di ieri la stampa invece sempre con in primo piano la crisi del movimento Grillo affonda Conte il Movimento 5 Stelle è nel caos il fondatore contro l'ex premier non ha visione politica né capacità manageriale con un posto il comico attacca l'avvocato del popolo e torna con Casaleggio nuova consultazione su Russo Letta però avvisa adesso è a rischio l'accordo sul Colle Beppe e Giuseppi finale di partito è la conclusione di Massimiliano Panarari intanto fatta l'intesa sui posti di lavoro non si licenzia se c'è la cassa il sì di governo sindacati e imprese ora tocca al welfare un patto sociale senza alternative qui invece vedete una spiaggia affollata vaccini in vacanza via in Piemonte e Liguria basterà un soggiorno di almeno due settimane e poi la proposta che era già stata fatta qualche giorno fa dal sottosegretario Sileri Green Pass solo dopo il richiamo quindi dopo due somministrazioni di vaccino ho ucciso Chiara guidato dal demonio ancora si parla di questo tremendo delitto le troppe ragioni del femminicidio è l'approfondimento e poi sul DDL Zan e su tante situazioni simili si esprime Antonello Venditti quando ero bambino, quando ero ragazzo sono stato bullizzato rischiai il suicidio adesso c'è bisogno di amici in taglio alto liberi dall'apartheid 30 anni di un miracolo imperfetto in Sudafrica anche i tedeschi fuori gli inglesi credono alla finale e poi il volo spezzato di Larissa che si è infortunata appunto al campionato nazionale di Rovereto e ha dovuto dire addio a Tokyo spostiamoci sulle 24 ore il governo o cassa integrazione o licenziamenti verso il consiglio dei ministri è stata fatta una dichiarazione congiunta dalle parti sociali ammortizzatori in alternativa alla risoluzione altre 13 settimane di cassa gratuita chi le utilizza non può licenziare il codice della crisi di impresa intanto slitta al 2022 allerta in vigore da gennaio 2024 poi vediamo in centro pagina Facebook e TikTok guerra all'ultimo spot Banca Americana è tolto il limite Fed parte la corsa ai superdividendi e poi ancora materie prime oro rischio costi per le banche dalle regole di Basilea 3 United Airlines riparte 35 miliardi per nuovi aerei ordini a Boeing e Airbus e poi invece la richiesta incentivi stabili per rinnovare il parco macchine delle imprese delle piccole e medie aziende l'età media è di 14 anni vediamo anche in politica Grillo rompe con Conte il Movimento 5 Stelle non diventi un partito unipersonale e poi appunto oggi il Consiglio dei Ministri sospensione del cashback scontro nella maggioranza torna anche a Firenze la moda di Pitti Uomo per festeggiare l'edizione numero 100 riguardo alla situazione dei licenziamenti dei posti a rischio in regione si è espressa ieri la CGL che ha annunciato sono a rischio 5 mila posti di lavoro se il governo non trova una soluzione condivisa in merito al blocco dei licenziamenti allora sentiamo qual è l'allarme del sindacato tra manifatturiero, servizi alle imprese e appalti in regione sono tra i 3 e i 4 mila i lavoratori a rischio con i venir meno del blocco dei licenziamenti dal 1 luglio e quanto rimarca la CGL il cui segretario regionale Villian Pezzetta ribadisce la ferma contrarietà alla fine del provvedimento di cui l'annessa richiesta rinnovata dal segretario generale Landini al presidente del Consiglio Draghi di estendere a tutti i settori la cassa integrazione per Covid e il blocco dei licenziamenti ci interessa poco spiega Pezzetta di discutere deroghe che avrebbero comunque una portata estremamente marginale soprattutto nella nostra regione dove solo l'1% degli occupati nel manifatturiero lavora nei settori per i quali si ipotizza una proroga della cassa integrazione quella che stiamo vivendo è infatti una fase condizionata da una forte incertezza legata sia all'evoluzione del quadro pandemico che a fattori economici vista quindi la fragilità della ripresa in atto è forte l'esigenza di continuare a garantire protezioni tutele valide per tutti i lavoratori e tutte le imprese a maggior ragione a fronte di un sistema produttivo e di un mercato del lavoro sempre più frammentati a confermare che sono circa 4.000 lavoratori in regione a rischio licenziamento ci sono anche quasi 26 milioni di ore di cassa integrazione autorizzate tra gennaio e maggio concentrate nel terziario ma con volumi ancora alti anche nel manifatturiero sono invece poco più di un migliaio a fronte di una platea di circa 120.000 occupati nell'industria e nell'edilizia i lavoratori del comparto tessile, abbigliamento e moda che potrebbero beneficiare della ventilata estensione del blocco Questi allora i numeri in regione adesso torniamo sulle prime di quest'oggi siamo sul fatto quotidiano che presenta la sfida fra Grillo e Conte così ne resterà uno solo Grillo sfiducia Conte la base lo molla l'ultimo vaffa si legge Carachiri il comico riesuma Rousseau e il voto sul direttorio A5 è proibito dal garante per evitare quello sul piano Conte le firme si interrogano su questa sfida e sull'esito anche di questo ultimatum di Grillo quanti lo seguiranno poi ancora licenziati anche i sindacati centri storici libertà e decoro Eni alberi per inguinare e poi CSM il referendum ridicolo dice Pier Camillo Davigo poi Cashback piace e funziona quindi Draghi lo blocca variante Delta al 30 folla a Wembley gli inglesi a Roma il 3 per i quarti Speranza frena sul Green Pass solamente con due dosi e poi melle depositate il legale dell'Eni dice era fasulla qui siamo sul fatto quotidiano andiamo adesso a vedere le altre prime di quest'oggi sempre comunque con questo tema relativo alla sfida fra Conte e Grillo cominciamo con Libero Beppe si pente ormai è troppo tardi Grillo violenta il suo Conte è un incapace ha una scarsa visione politica non ha esperienza di organizzazioni però intanto dice Sallusti nel suo pezzo ce l'ha rifilato per due anni poi la donna moderna è antisemita l'influencer buonista calpesta la stella di David e c'è una sfida interna di Libero nei confronti della stampa italiana spesso accusa alcuni giornalisti alcune testate che affrontano dei temi scottanti in questo caso è donna moderna a essere stata interpellata da Libero richiamata all'ordine da Libero per una influencer islamica messa in copertina e poi Orlando il ragazzo suicida di Torino non è stato vittima di omofobia dice Libero un ricatto dietro il suicidio delle diciottenne a Torino poi si seguita a straparlare Vittorio Feltri torna sull'anniversario della strage di Ustica il festival delle menzogne e poi che bello europeo scrive Pietro Senaldi fuori Francia e Germania dopo l'expload della Svizzera ci pensa l'Inghilterra a eliminare i tedeschi che evidentemente non stavano simpatici al giornalista andiamo a vedere il giornale anche qui lo presenta in maniera molto diretta lo scontro del Movimento 5 Stelle un vaffa a Conte Grillo fa esplodere il Movimento 5 Stelle Beppe durissimo adesso il voto su Russo l'ex premier incapace politico e organizzativo dossier interni su Giuseppe è giallo scissione a questo punto ad un passo l'ira della base sul garante così è la fine molti appunto ce l'hanno con Grillo per questa presa di posizione così netta senza cercare una via di mezzo con Conte senza Giuseppe intanto è psicodramma in casa Dem gli alleati sono disorientati Draghi fa infuriari i giallorossi attacco al contismo cashback ultimo compo il governo Draghi ha in solo quattro mesi smontato molte delle norme previste da Giuseppe Conte l'ultima iniziativa riguarda il cashback di Stato dal quale la cabina di regia della maggioranza ha dichiarato la fine anticipata oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe bloccarlo nelle intenzioni di Palazzo Chigi c'è anche una scrematura dei furbetti del reddito di cittadinanza poi sempre la politica giusto unire Azzurri e Lega e allearsi con Meloni dice Marco Gervasoni questo ritorna alla cronaca quei killer che sentono le voci e le loro vittime senza un perché dai fratellini di Ardea a Chiara qui la sedicenne lo scatto della sedicenne uccisa vicino a Bologna poi invece la 35enne che stava prendendo il sole a Moriago della battaglia a Treviso uccisa a coltellate da un coetaneo anche qui senza un perché e poi il pensionato e i fratellini freddati per strada ad Ardea a Roma via libera ai vaccini in vacanza e poi in Gran Bretagna il ministro dell'istruzione ha annunciato che vuole vietare il telefono a scuola un provvedimento molto contestato che però ha anche i suoi estimatori qui siamo sul giornale andiamo a vedere anche la verità scusate il manifesto il padre affondatore così viene definito Grillo che dopo le accuse dure a Conte lo mette alla porta e riconsegna i 5 stelle alle votazioni sulla piattaforma Russo di Casaleggio Beppe ha scelto di fare il padre padrone dice Conte e la conferma che questo movimento andava cambiato poi passo indietro di Draghi sui licenziamenti lungo vertice poi Confindustria firma ma attenu l'avviso comune e appunto si torna parzialmente indietro rispetto alle decisioni Migranti Unione Europea via libera la nuova agenzia per l'asilo e in Spagna il governo dà l'ok alla lei trans vediamo la verità Grillo liquida Conte è una droga si legge l'ex premier spalla al muro tenta forse il partito sotto le macerie dello scontro intanto rimane letta finte presenze in regione la carta che inguagierebbe Zingaretti e poi così il PD ha aiutato il terrorista fregandosene dei detenuti psichici gli agenti penitenziari raccontano il trasferimento frettoloso di Battisti dopo il blitz dei democratici questa è la prima della verità adesso spostiamoci sul gazzettino si parla della variante delta perché ci sono stati dei nuovi casi in Veneto in particolare a Padova intanto una donna di 49 anni è stata ricoverata direttamente in terapia intensiva in un palazzo ci sono già 14 casi nel veneziano diversi contagiati fra i bambini che hanno partecipato ad un campo estivo di rugby del campione padovano bergamasco sono ritornati da Venezia con il covid e soprattutto con la variante delta un annuncio che è stato dato ieri proprio dall'azienda sanitaria padovana e dall'ULS della zona che ha richiamato tutti all'importanza della doppia somministrazione di vaccini intanto in Veneto sono arrivati un milione e mezzo le persone che si sono vaccinate con entrambe le dosi e hanno chiesto tanta attenzione nonostante l'allentamento delle misure intanto sempre con un osservatorio del gazzettino è un'interrogazione che è stata fatta a diversi cittadini uno su tre pensa che la pandemia non finirà mai intanto il focus 280.000 giornate lavoro volontari eroi invisibili un miracolo delle Veneto ieri sono stati fatti i numeri e è stata spiegata la forza lavoro dei volontari della protezione civile che si sono adoperati in questa emergenza e poi ancora Banca Italia il Veneto l'industria in ripresa resta però l'incognita turismo la presentazione ieri a Venezia di una fotografia della situazione dell'economia veneta dopo la pandemia e poi la giudiziaria con Zennaro che da tre mesi è ancora in Sudan lo stress sta presentando il conto e il padre è preoccupato ha chiesto l'aiuto dello psicologo l'imprenditore veneziano che è imprigionato la causa slitta ancora terzo cambio del PM l'imprenditore ha avuto il crollo nervoso a casa dell'avvocato a Folgaria vestiti sporchi di sangue ancora la cronaca Carlo Pellegrini accusato dell'omicidio del fratello sarà interrogato dal GIP dovrà spiegare il perché dei vestiti sporchi di sangue poi ancora Grillo Licenzia Conte ipotesi scissione due strategie l'insalabile contraddizione del movimento poi ancora in taglio basso invece Venezia Port Offshore progetto a giugno 2023 l'idea è quella proprio di trovare delle alternative al passaggio delle grandi navi in laguna ed è stato aperto questo bando per un concorso di idee il caso Samantha e la dignità della persona una lettera indirizzata direttamente al Gazzettino poi invece la pagina dedicata al Friuli con il mortale di Paluzza purtroppo e poi lo sport con Euro 2021 due schiaffi alla Germania l'Inghilterra infrange il tabù e passa ai quarti di finale garantendosi così l'accesso al prossimo turno di questo europeo con due gol di Sterling e di Kane poi ne parleremo durante la pagina sportiva il piccolo mette in primo piano ovviamente la presentazione della nuova barcolana la barcolana 2021 blindata recupero al lunedì in caso di maltempo barche in mare l'undici cade il limite alle iscrizioni molti gli eventi in Portovecchio debutta il Sea Summit ne abbiamo parlato anche noi ieri eravamo in diretta da Trieste abbiamo anche intervistato il presidente della barcolana mette a Gialluz vediamo voglia di ripartenza voglia di nuove rotte voglia di navigare verso un futuro senza la pandemia senza le mascherine già aver fatto una conferenza stampa con una partecipazione ampia distanziati ma all'aperto senza mascherine è un segno di ritorno alla normalità abbiamo aperto le iscrizioni aspettiamo tanti tanti armatori a partecipare a questa edizione barcolana in questi anni si è evoluta da regata evento 360 gradi ed è naturale che in barcolana si parli del mare si parli del mare adriatico con un barcolana sea summit un evento internazionale al quale prenderanno parte gli scienziati che ci spiegheranno quali sono i mali di cui soffre l'adriatico e il mediterraneo le imprese che ci racconteranno le azioni che svolgono per tutelare il mare e poi il decisore politico che ascolterà e dirà quali sono i progetti di sostenibilità nel senso dell'economia green dell'economia blu dopo la pandemia viviamo in un mondo diverso e sostenibilità è la parola chiave barcolana anche su questo tema c'è non sia mai ma per questa edizione avete previsto un'eventuale data di recupero visto che è mandato l'anno scorso assolutamente dalle situazioni diciamo di difficoltà si impara abbiamo pensato insieme alla federazione italiana una vela di collocare lunedì 11 ottobre una data di recupero quest'anno come dire l'anno scorso è stata giusta la scelta di cancellare la barcolana per ragioni di sicurezza non abbiamo abbiamo celebrato l'evento siamo stati bene insieme tanti giorni poi la domenica purtroppo non si è potuto navigare questa è la vela quando c'è troppo vento per ragioni di sicurezza bisogna stare in porto quest'anno navigheremo la domenica e se la domenica le condizioni non consentiranno di navigare in sicurezza quindi solo se ci sarà troppo vento ci sarà una data di recupero il lunedì Presidente al di là dell'eventuale maltempo si spera che non sia così d'esta preoccupazione per gli organizzatori anche le varianti del coronavirus di cui si sta tanto parlando abbiamo nel 2020 acquisito un know-how tale per cui le varianti vanno monitorate siamo in costante contatto con tutte le autorità competenti però ripeto abbiamo organizzato una barcolana l'anno scorso quando non c'erano i vaccini credo che quest'anno raggiungeremo l'immunità di gregge è stato detto qualche giorno fa dal generale Figliuolo a settembre e quindi a ottobre anche le varianti faranno meno paura comunque siamo determinati siamo molto concentrati e soprattutto abbiamo alle spalle un'edizione alla quale abbiamo imparato tanto naturalmente dovremo come dire migliorare ancora garantire dei servizi migliori a tutti i nostri armatori ma ci siamo e la città è con noi Presentazione open air quindi per la barcolana con distanziamenti non è più obbligatoria la mascherina all'esterno ma sicuramente è tanto caldo a barcola torniamo sulla prima del piccolo la barcolana quindi blinda la regata ci sarà il recupero poi le consuete storie che arrivano dalla costa triestina io e nella su questa terrazza dagli anni 50 i toto topolini sono molti i triestini che appunto si godono l'estate in città poi un focus sul mondo della sanità i medici della regione e gli stipendi più bassi d'Italia Riccardi chiede allo Stato maggiori risorse e poi ieri invece il dibattito in consiglio regionale il centrodestra difende la nomina di De Monte a capo della SORES cosa è successo? c'è stata una mozione firmata dai cittadini che hanno chiesto delle uccidazioni da parte della giunta in particolare da Riccardi sulla nomina di De Monte alla SORES il primario di anestesia e rinanimazione di Udine che appunto è stato nominato direttamente a capo della SORES annullando un concorso con questo annullamento si va a porre due persone il direttore di anestesia e rinanimazione che andrà trovato e alla SORES due primari che saranno facenti funzione che quindi non saranno appunto nominati primari con un concorso questo è stato l'interrogativo in consiglio regionale la mozione è stata bocciata se ne è parlato a lungo ieri all'aula del parlamentino regionale sentiamo la risposta di Riccardi a mettere in discussione che una figura professionale come quella del dottor De Monte che è primario non so da quanti anni debba fare un concorso per dimostrare quando la norma gli consente di essere spostata da una stura all'altra mi sembra più una provocazione che cerca di andare avanti col solito teatrino della politica le competenze sull'emergenza di De Monte non hanno bisogno delle mie giustificazioni nemmeno troppo tempo da perdere come ne stiamo perdendo sopra la SORES avrà un grande direttore di grande esperienza del quale non condivido niente della campagna vaccinale questa è la dichiarazione di Riccardi che quindi è critico nei confronti delle scelte di De Monte sui vaccini e soprattutto nei confronti delle sue dichiarazioni anche se appunto il primario di anestesia e rianimazione ha chiarito con una lettera di qualche giorno fa il fatto di essersi comunque vaccinato prenotando ancora ad aprile sempre sul piccolo torniamo a parlare delle notizie di cronaca il consiglio vota il piano del centro storico posizioni all'attacco si parla ovviamente di Trieste mercato coperto con prodotti artigianali e a chilometro zero il bar tergesteo riapre dopo due anni il poche sbarca a Ponte Rosso e poi omicidio del Ponzanino il coinquilino è accusato da un testimone chiave in taglio alto ancora lo scontro tra i 5 stelle e lo sblocco dei licenziamenti andiamo a vedere la pagina di Gorizia sempre con il piccolo la fondazione lavorerà per l'unità del Lisontino l'intervista al nuovo presidente Bergamin vogliamo favorire l'integrazione l'arricchimento reciproco di Gorizia e Monfalcone confermate 3 milioni di erogazione in centro pagina sempre la Barcolana edizione numero 53 con i bambini che vedete nello scatto blinda la regata recupero di lunedì nella spalla esposti a mianto i pazienti seguiti anche a casa il ristorante Ledune ceduto restano chef e staff la Mideia a Gorizia celebra i 40 anni e premia pupi avati tutto pronto a grado invece per il perdone di domenica spostiamoci sul messaggero di Pordenone anche qui si parla di sanità nuovo ospedale giù due padiglioni e cure intermedie deciso l'utilizzo delle aree attualmente occupate dagli edifici A e B realizzato un reparto con 50 posti letto di RSA allo studio un parcheggio nella foto di centro pagina invece un forte temporale con Grandine si è abbattuto sul Pordenonese intorno alle 19 e poi anche un'ora dopo pioggia ma soprattutto Grandine in città si è allagata una corsia del parcheggio Marcolin l'acqua alta ha rallentato la circolazione in alcune vie del centro è ancora la cronaca nella spalla il murale a Pordenone un omaggio allo spettacolo da Zoppola a Londra diventa un manager della ristorazione tre giorni nel tir erano disidratati salvati tre immigrati trovati il kayak si capovolge padre e figlio soccorsi nel Livenza la pagina di Udine è sempre del messaggero anche qui la sanità con i medici in regione che hanno le buste paga più basse d'Italia integrativo medio di 20.000 euro l'anno contro i 66.000 dell'Alto Adige minori compensi dovuti al numero di professionisti sul territorio poi invece la foto mostra gli artigiani dei giovani artigiani che non si sono arresi alla pandemia e le loro storie sono all'interno del quotidiano nella spalla il sindaco Fontanino Fontanini invita a vaccinarsi lo insultano sui social Tolmezzo sale in auto ed è colta da malore muore a 69 anni lo scontro a Paluzza il pensionato rimane ucciso la moglie è grave e poi anche qui l'incidente con il kayak sull'Ivenza torniamo allora a parlare dello scontro mortale di ieri a Paluzza dove un uomo stava uscendo da un distributore di benzina si è scontrato con un altro altro e ha perso la vita sentiamo tutto nelle pillole di Cronac Il 74enne Giancarlo Di Ronco di Rivo di Paluzza è morto in un incidente stradale che si è verificato attorno alle 10.30 di stamattina lungo la statale 54 bis all'altezza del distributore Tamoil nel comune di Paluzza un'altra persona è rimasta ferita il pensionato stava uscendo dall'area di servizio al volante della sua jeep quando si è scontrato con un'altra vettura le ferite riportate dall'anziano erano talmente gravi che è morto sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 i vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo e i carabinieri sono state le loro stesse grida a far scattare alle ricerche poco dopo le 11 di stamattina allertando un gruppo di escursionisti che scendeva dalla forca dell'alpino nelle dolomiti pesarine e il titolare del rifugio dei gasperi la stazione del soccorso alpino di Fornia Voltri e la guardia di finanza insieme all'elicottero della protezione civile si sono attivati e hanno individuato due alpinisti alla base di una parete del creton di Pulzei a 2100 metri di quota uno dei due udinese era ferito in quanto era caduto per circa 7 metri per una roccia che si era staccata il compagno l'ha recuperato e insieme si sono trascinati su un terrazzino ad attendere i soccorsi politraumatizzato è stato stabilizzato e collocato nel materassino a depressione e imbarcato con una prima berricellata di più di 50 metri con una seconda berricellata è stato recuperato il compagno di cordata il leso in stazione a Udine a luna della scorsa notte un 46enne italiano ha urinato davanti ai viaggiatori in attesa di un treno e si è denudato completamente gli agenti della Polfer lo hanno quindi denunciato per atti osceni emettendo anche un daspo urbano lo stesso provvedimento è stato preso nei confronti di due pakistani entrambi noti alla Polfer Udinese per aver occupato abusivamente un sottopasso incidente nautico poco prima di mezzogiorno nel tratto navigabile del fiume Stella in comune di Pracenitco mentre stava discendendo il corso d'acqua a bordo di un'imbarcazione insieme ad amici un sessantenne è stato colpito da una parte del supporto della vela che aveva sbattuto contro un albero il ferito è stato trasferito in ospedale in condizioni critiche ma non in pericolo di vita i vicini del fuoco hanno invece recuperato a San Odorico in comune di Sacile sul lato destro dell'ivenza due persone che si sono rovesciate col kayak sul posto anche sanitari del 118 a Udine i carabinieri della sezione radiomobile sono intervenuti in via Battisti dove due artisti di strada un 24enne triestino e un 21enne pordenonese sono stati derubati di 60 euro raccolti tra gli spettatori della loro esibizione musicale a portare via il contenitore posato a terra con i soldi è stato un 15enne a Martignaco i carabinieri sono intervenuti nel negozio Scarpe Scarpe del Città Fiera dove un 75enne residente in provincia ha rubato un paio di sandali del valore di 45 euro andiamo ora sulla prima del gazzettino dedicata al Friuli genitori Novax ragazzi in rivolta adolescenti ostaggi delle famiglie contrarie ai vaccini pronte le prime cause legali per ottenere lo stesso il siero serve il consenso di padre e madre ma c'è chi non ci sta ieri in Friuli Venezia Giulia solo 16 positivi tornano a diminuire i ricoveri tanto in montagna sono scomparsi i casi di contagio poi ancora la cronaca schianto sulla statale pensionato 70 quantrenne muore vicino a casa lo abbiamo sentito e poi l'alpinista ferito in Val Pesarina dopo essere caduto per 7 metri il quartiere di Godi avrà una piazza tutta nuova a decisione del palazzo d'Aronco un piano per far lavorare chi ha il reddito di cittadinanza in taglio più basso la barcolana torna in mare e l'agricoltura è già a rischio a causa del caldo record in centro pagina offerte di mercato questa volta per qua musso l'Atalanta si fa avanti torna a bussare e offre 17 milioni e ieri è stato anche l'anniversario della strage di Dacca che è stata commemorata in consiglio regionale ok alla medaglia al valore per le vittime friulane di quella strage andiamo all'interno del gazzettino i genitori contro i vaccini i figli vanno dall'avvocato famiglia Novax i giovani pronti a fare causa diversi casi in tutta la regione la strada è tortuosa ma è percorribile gli ordini dei medici dicono non possiamo agire continua anche la caccia agli over 60 che non hanno ricevuto la prima dose operatori sanitari riprende la corsa alla protezione scende la quota di non immunizzati mozione in consiglio contro gli attacchi sui social il sì è unanime intanto la montagna che era stata molto colpita durante questa primavera adesso è al sicuro tutte le valli alpine sono senza positivi il territorio è stato colpito duramente durante la seconda e terza ondata oggi non ci sono infetti attualmente attivi sia in provincia di Pordenone che in Carnia il tasso di contagio comunque rimane al minimo solo 16 pazienti ammalati un morto a Gorizia tornano a calare i ricoveri la variante Delta è alla base di maggior parte dei focolai e si trova più o meno in provincia di Trieste e poi le notizie della città con 100.000 euro la piazza di Godi avrà un nuovo look i lavori partiranno a settembre dopo la sagra del quartiere reddito di cittadinanza via ai progetti di lavoro e poi in taglio basso ancora notizie cittadine autobus gratis per andare a vaccinarsi ci sono diverse corse che portano al polo della fiera e poi la violenza dei Novax contro il post del sindaco che appunto ha sollecitato alla vaccinazione ed è stato preso di Mira per quel che riguarda l'agricoltura troppo caldo e poca pioggia nella tarda primavera colture e frutteti rischiano già di andare in sofferenza e qui strage di Dacca la rabbia e il ricordo anche ieri abbiamo raccontato la commemorazione in consiglio regionale in aula Trieste appunto si sono ricordate le vittime friulane del 2016 spostiamoci adesso sulle pagine sportive andiamo sulla gazzetta leggiamo intanto le notizie bianconere colpo musso la Dea cambia portiere è fatta per l'argentino un affare da 20 milioni dice la Rose ha pronto un contratto quadriennale da limare gli ultimi dettagli con l'Udinese questa sarebbe la mossa di mercato dell'Atalanta che vuole appunto accaparrarsi le performance del portiere argentino dell'Udinese la prima della gazzetta invece è dedicata alle frecce tricolori spi d'Italia da immobile a chiesa fino a spinazzola nessuno ha giocatori così rapidi come la nostra nazionale il Belgio ha una difesa stagionata dice la gazzetta i centrali fanno 101 anni in tre e poi le parole di alcuni alcuni esimi opinionisti fra cui Cannavaro se giochiamo di squadra possiamo puntare anche al mondiale Chiellini schierato con i titolari è pronto al duello con Lukaku biaggio social nella bolla azzurra intanto Sterling l'Inghilterra elimina la Germania sabato a Roma senza tifosi al seguito sfiderà l'Ucraina di Shevancenco appunto gol di Sterling e di Kine c'è stata anche l'esultanza reale col principe William la moglie Kate e il figlio George e poi ancora in taglio basso Juve sprint per Locatelli occhio a Dortmund e Arsenal Atalanta Mussova in porta addio Tokyo Larissa il salto maledetto l'infortunio e le lacrime i miei giochi sono soltanto rimandati appunto in taglio più alto la solitudine Mbappé chiedo scusa a tutti e Pelè lo incoraggia dopo il rigore sbagliato guardiamo anche le altre prime di sport il corriere assalto a Berardi per l'attaccante azzurro ora si muovono Leicester e Milan la Juve stringe per Locatelli l'urlo di Wembley Germania a casa l'Inghilterra ai quarti andrà appunto a giocare contro l'Ucraina di Shevchenko si gioca a Roma rinuncia ai miei gol per il titolo la sfida di Immobile poi in taglio più basso il trust salernitano è da riformulare e Larissa shock dice addio alle Olimpiadi su tutto sport si parla di Juve nuova squadra in dieci mosse e poi ancora per gestire Lukaku Chiellini è pronto andiamo a vedere adesso la prima del gazzettino dedicata allo sport e in generale ai colori bianconeri l'Atalanta insiste vuole Juan Musso il portiere argentino debutterebbe in Champions offerti 17 milioni di euro più bonus la società friulana però ne vuole 25 Romero rimane un caso aperto potrebbero esserci degli spiragli come abbiamo raccontato anche ieri sera Baic è pronto a dire sì al Brescia scuffette verso i pali del Benevento Dacia Arena sempre più green adesione allo Sports for Climate continuiamo nel nostro percorso interno aderiamo al progetto sul clima delle Nazioni Unite ha detto Magda Pozzo anche la pagina di Udinese sul messaggero offensiva dell'Atalanta 20 milioni per Musso al portiere argentino un milione e mezzo all'anno per sostituire Gollini e si cerca a questo punto delle alternative sul mercato così dice il messaggero Okaka vuole restare i turchi bussano l'Udinese chiede 2 milioni per adesso poche le reti del Centravanti 4 reti in 22 presenze poi altre trattative qui che si è del Milan il futuro di CR7 il nuovo contratto pensieri che tormentano Juve e Milan e si torna anche a parlare dell'Italia nell'europeo del covid e delle sorprese l'unico quarto di finale che rispetta il pronostico è quello fra Italia e Belgio e poi sempre sul messaggero si parla anche delle Eagles di Cividale Michele c'è la stagione d'applausi entusiasmante vedere crescere la squadra che al primo anno dalla Costituzione guidata da coach Pillastrini ha sfiorato la promozione in A2 le stelle giamaicane arrivano a Lignano ecco Jackson Thompson e Gale e appunto per la quindicesima stagione verranno a preparare la stagione delle gare a Lignano e parteciperanno se non altro in maniera simbolica per qualcuno al 32esimo meeting sport e solidarietà il 3 di luglio adesso vi racconto quali sono i programmi di quest'oggi su Udinese TV come sempre l'informazione e poi anche pomeriggio calcio alle ore 15 con tutte le info bianconere alle 17.15 spazio alla musica della nostra regione con il Poma e Music Machine e questa sera alle 21 gli speciali del TG a cura di Francesco Pezzella si parla della variante economica licenziamenti fisco timore di nuove chiusure tante incognite per la ripresa io vi ringrazio per averci seguito vi do appuntamento fra poco alle 10 ritorniamo in diretta con il nostro telegiornale a più tardi a più tardi